Una rogatoria internazionale per sentire i due testimoni danesi, padre e figlia, che occupavano la stanza accanto alla 609 dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca, dalla quale il 3 agosto 2011 precipitò Martina Rossi. Questo quanto risposto dal giudice del Tribunale di Arezzo Angela Avila nel corso dell'ultima udienza del processo per la morte della studentessa Ligure. Sul banco degli imputati, Luca e Alessandro, due giovani eretini accusati di aver provocato la morte della ragazza nel tentativo di stupro. La difesa dei due giovani si sarebbe infatti dovuta esprimere sull'accordo proposto dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, ossia la verbalizzazione delle testimonianze rese in fase investigativa dai testimoni stranieri. Non c'è stato però il consenso da parte dell'avvocato difensore di Alessandro, Tiberio Baroni. Da qui la decisione della strada di una rogatoria internazionale per uscire così dall'impasso durato circa un mese. La tecnica del diritto è questo, la giustizia, la difesa hanno tantissimi diritti. Martina non c'è più, erano solo i contenti e andiamo avanti. Però insomma entro fine anno potrebbe esserci una sentenza. L'ultima udienza è stata fissata per metà dicembre, potremmo arrivare a una verità processuale? Io spero proprio di sì, anche perché veramente se non fosse così c'è il rischio... Anni che è morta mia figlia, io non vi dico altro. C'è il rischio di dare dei pugni in cielo, ecco allora guai, voglio dire se non arrivassimo... Il rischio di sbilanciarmi, io non ce la faccio a parlare. Alla fine ecco poi anche il rispetto delle cose per me salterebbe. Le parti adesso dovranno consegnare le domande e i documenti da sottoporre ai testimoni scandinavi. Padre e figlia sono gli ultimi testimoni della pubblica accusa, coloro che quella notte avrebbero sentito un urlo per il procuratore Rossi di Martina e subito dopo un rumore precipitoso di passi per le scale per l'accusa a quelli di Alessandro, una ricostruzione che cambierebbe totalmente le carte in tavola.